Questo talk, Salt Hours in Space, parla di una roba che sta succedendo più o meno da un po' ormai. Vi chiedo scusa in anticipo perché il talk è un po' compresso, c'è un po' di roba, lo stile è un po' retro ma siamo rimasti lì. Quindi niente, proseguiamo. Allora, un po' stile Defcon perché facciamo anche noi così. Credentials, insomma perché io, perché sono qua a parlare di questo. Mi occupo di System Architecture Engineering in un operatore Satcom e nello specifico mi occupo di Mobile, quindi Cellular Networks Satcom. Parlo di questa roba anche perché l'ho testata, cioè nel senso che ho lavorato proprio al testing e allo sviluppo di queste soluzioni. E perché ne parlo? Perché prima di tutto è un topic che diventerà sempre più hot, ne sentirete parlare e nello specifico arriverà anche nei vostri smartphone. E poi perché c'è un sacco di hype, c'è parecchia confusione anche sulla tecnologia, su Direct to Sell, Direct to Device, non terrestre al network, eccetera. E poi anche perché le Satcom sono ancora un po' una black magic e quindi abbiamo bisogno di più nerd per guardarci dentro. Allora, Crash Course su Mobile Networks, molto semplificate, qui abbiamo 4G, 5G, sono praticamente identiche, ignorate tutti i termini che leggete dentro, le due cose che dovete tenere presente sono la Base Station, cioè la Radio Network, che in 4G si chiama E-NodeB, in 5G si chiama G-NodeB o NGRAN, l'hanno chiamata Next Generation, mi chiedo come la chiameranno in 7G e in 8G, e poi c'è il device o il mobile, sarebbe lo smartphone, può essere anche altra roba ma fondamentalmente quello. Domanda, chi è che decide come funzionano le reti cellulari? È un organo, un gruppo che si chiama 3GPP, è interessante, era nato durante il 3G, è rimasto 3GPP. Partecipano tutti i big vendor, si riunisce più o meno ogni un mese e mezzo e sostanzialmente definiscono la specifica tecnica delle reti mobile. È una specifica pubblica, la potete consultare, scaricare, fino allo storico, e lavorano in release da 18 mesi. Per esempio, release 8, che è stata rilasciata nel 2010, è stata la prima 4G LTE release, release 15, 2017, è stata la prima release 5G ufficiale, release 17, 18, adesso stiamo lavorando alle release 19, e stiamo preparandoci per release 20, release 21, che sarà la prima release 6G. Entriamo nel myth di questo talk, se avete visto un pochino le news, avete visto che sono successe un po' di cose negli ultimi 24 mesi. Apple ha annunciato SOS via Satellite, se avete un iPhone 14 Pro, avrete una funzionalità che si chiama Satellite SOS, che potete testare. L'altra cosa che sono uscite, a un certo punto è uscita un'azienda piccolina che si chiama Bullet, insieme a Motorola e Cat, ha fatto una serie di smartphone e un device che permette di fare messaging via Satellite. E poi Elon con T-Mobile, Starlink Direct2Sell, lì vedete la demo degli SMS, attenzione sono due iPhone, ma le caselle sono verdi non blu, quelli non sono iMessage, sono SMS. C'è qualcuno che anche dice che non sono stati realmente inviati. E poi AST e AT&T dimostrano la prima voice call da uno smartphone standard via Satellite. Com'è partito tutto questo? Allora, da più o meno release 16, quindi si parla 2018, anzi in realtà, scusate, 2018, anzi in realtà anche un po' prima, 3GPP ha iniziato a studiare accesso via Satellite. E abbiamo perso il treno per il 5G, siamo arrivati un pelino tardi. E poi è successo che Corelis 17 arriva alla prima normative spec con supporto 4G, 5G via Satellite Access. Ne è passata un po' in sordina nel pubblico, ma c'è nella spec, adesso è incluso, si chiama Non Terrestrial Networks AT&T. Facciamo un passo indietro, Satcom, Overview. Allora, una rete satellitare fondamentalmente si basa di uno più satelliti, possono avere o non avere degli inter-satellite link. Il satellite è collegato a terra da un feeder link con un gateway, o ground station, collegato a una radio network, data network, eccetera. Il satellite proietta quello che si chiama user link o service link in dei beam che insieme fanno parte di una coverage footprint, o coverage area. Possiamo equare beam con una cella. Il satellite può contenere una o più di queste funzioni, filtering, amplificazione, conversione di frequenza, encoding, decoding, o anche modulazione e demodulazione e routing. Dipende da, si chiama trasparente o rigenerativa. Il satellite nell'immaginario collettivo e soprattutto nelle news online. Questo è il tipico satellite che vedete sulle news. Non è un satellite di telecomunicazioni. Non ho idea di che cosa sia. L'altro che vedete molto spesso è questo tipo qua. Anche questo non è un satellite di telecomunicazioni, è un GPS Block 2. Questi sono satellite di telecomunicazioni. Sinistra, satellite geostazionario e poi due satelliti in orbita bassa. Nello specifico, a sinistra il Marsa 6, geostazionario. L'orbita geostazionario è 36.786 km. Sono tanti. E quelli a destra sono i Rydium Next, ultime costellazioni Rydium, 780 km. E Starlink KU, anche quelli entrambi in orbita bassa, 550 km. Un po' di componenti, parlavamo di Gateway, Feederlink, Feedantenna, sono quelle parabolette bianche. Poi si parla di Userlink Array. Nel caso del GIO c'è un Array che poi vedremo meglio, che spara contro un reflector, una parabola gigantesca. Solar Array, si parla di 50 metri di pannelli solari o per i satelliti geostazionari un po' più piccoli su Ilio. Le immagini non sono in scala. Il satellite sinistra è più o meno grande come un autobus per intenderci. Iridium Next, Userlink Array, un Direct Feeding Array. Feedantenna, quella paraboletta bianca, anche quella, Gateway. Starlink, particolarità, Opticals Inter-Satellite Link, il laser. Ok, adesso si parla di Base Station nello spazio. Ma cosa succede quando metti una Base Station nello spazio? Cos'è che si rompe? Un po' di cose. Allora, prima di tutto c'è un problema di tempo, latenza. Big lag. Allora, se avete giocato online, qui iniziate a preoccuparvi. Nel migliore dei casi, satellite in orbita bassa, si parla comunque di un range di latenza, one way, non round trip, dai 6 ai 50 millisecondi. Dipende dal fisico, non si combatte la fisica. Satelliti geostazionari o geosincroni, più genericamente, anche di più, 125-250 millisecondi, one way. Ma quello è il minore dei mali, Doppler. I satelliti, soprattutto i satelliti in orbita bassa, si muovono veloci. In orbita 8000, più o meno, l'orbita bassa è tra i 7000-8000-9000 km al secondo. Quando misurate lo frequency shift, lo spostamento della frequenza percepita di un terminale a terra, avete una roba che è almeno intorno, poi varia molto velocemente, vedete la curva lì, fa vedere la variazione del Doppler in base alla posizione, al tempo di visibilità, intorno dai 0 ai 25 ppm, anche di più. Si parla di 50-100 kHz di Doppler shift, più le variazioni nel mezzo. E quello è il common Doppler. C'è un altro problema, intanto la prima cosa, se uno prende il standard LTE, LTE ha una specifica di 0,25 ppm, quindi capite che è un problema. Però l'altro problema che c'è è quello che si chiama differential Doppler, cioè se voi prendete il centro della cella o un punto di riferimento, avete un common Doppler, se poi prendete i due punti ai lati della cella, lo vedete nell'immagine col beam verde, c'è un delta del Doppler percepito tra il punto centrale e i due punti ai lati. Quello è un bel problema, lo vediamo dopo. E poi ovviamente, perché il tempo non ci poteva lasciare, anche differential delay. Stesso problema, se tu prendi il centro della cella e i due lati, hai un delta time percepito in base a dov'è il terminale. E questi sono dipendenti molto da, per esempio, il Doppler, dalla frequenza, dall'orbita, dal dimensione di beam, da una serie di cose, insomma. Ok, cosa facciamo? Tre opzioni. La prima opzione è, perfetto, disegniamo una nuova interface, un nuovo physical layer, una nuova waveform. Yes, tutto perfetto, sì. E quando l'abbiamo proposto ci hanno detto, ne riparliamo in 6G, forse. Opzione 2, invece studiamo un metodo così che la rete e il terminale lavorino insieme, compensino tutti questi casini. L'opzione 3, la chiamerò opzione Elon, with sufficient trust, è praticamente brute forcing del problema. Questo è interessante perché? Perché il target è supportare il device che avete già in tasca. Cioè, quello che chiamano unmodified. Ovviamente, Elon non poteva che scegliere opzione 3, non è l'unico. Però, qual è il trucco? Praticamente questo diventa un hack. Cioè, bisogna convincere il mobile che sta parlando con una cella terrestre, non nello spazio. Quindi ci sono un po' di cose da fixare. Primo, common timer. Allora, sappiamo, delay, una cella LTE abituata a decine di millisecondi di delay, sicuro bisogna dargli un offset in time. Questo è facile, lo possiamo fare in modo trasparente. L'altra cosa che poi dobbiamo fixare è il Doppler, common Doppler. Così si fissa un punto di riferimento a terra e poi si fa compensation su quel punto centrale. A quel punto abbiamo azzerato il Doppler in quel punto centrale. Il satellite si muove, aggiusta la compensazione relativa al punto fisso a terra. Perfetto. Tutto bene? In teoria il device non ha idea che sta parlando con un satellite. What happens to the uplink? In teoria la RAN, la radio network, compensa l'uplink in post compensation. Quindi il terminale non ne ha idea, quindi in via, il satellite riceve un segnale shiftato di frequenza. Lo compensa. In pratica ci sono un po' più di problemi. Primo i timer falliscono, cioè se la fisica non si combatte, se la rete è lontana, il terminale manda un messaggio, non riceve risposta, dice ok, mo che faccio? O risendo. E quindi lo rimanda. Quindi la soluzione per questo è abbassare l'orbita, mettere tutta la base station sul satellite, e quindi accorci la distanza, rientri più o meno nei timer. Il problema è quello che dicevamo prima, residual differential Doppler and delay. Questo è un bel... Ecco. La soluzione sono celle molto piccole, perché? Ristringi la cella, compensi la centrocella, il delta tra centrocella e edge of cell si riduce. Non è così semplice. Bisogna considerare due cose. La dimensione della cella, cioè del beam satellitare, è inversamente proporzionale all'apertura dell'antenna. Il che vuol dire che per fare un beam molto piccolo, non ho messo le equazioni qua, ma per fare un beam molto piccolo ci vuole un'antenna molto grande, vedremo quanto grande. E l'altro problema è che il Doppler rate, il Doppler è... Quindi i PPM sono fissi, ma il frequency shift assoluto dipende dalla frequenza. E quindi aumentando la frequenza il problema diventa più grosso, anche perché il Doppler rate aumenta, il cambiamento del Doppler aumenta. E invece nello standard dell'intero GPP abbiamo adottato la soluzione numero due. Cioè facciamoci le cose un po' più semplici. Cambiamo lo standard, modifichiamo sia la rete che il device, i due cooperano, risolviamo il problema per qualsiasi tipo di architettura. Quello che vedremo con questo qua, l'approccio brute force, è che praticamente ti inchioda su una particolare architettura. di space segment, di costellazione. Questa architettura qua, invece, ti permette di supportare qualsiasi tipo di access. Si combinano due tecniche. La prima è che la rete trasmette quello che si chiama Common Timing Offset, e praticamente il mobile può usarlo per calcolare la differenza di timing rispetto alla propria posizione. e poi la rete trasmette quelle che si chiamano ephemeri del satellite, cioè position e velocity vector del satellite. Dove sta e dove va il satellite. Si possono trasmettere anche altri dati, quindi costellazione, next cell, whatever, ma questi sono i fondamentali. Il device cosa fa? Riceve il punto GPS, o comunque autodetermina il punto con una certa tolleranza, legge i dati dal satellite, legge il Common Timing Offset, e dice ok, perfetto, so dove sono, so dove è il satellite, posso compensare perfettamente l'AppLink. Quindi, mentre il downlink è alla cieca, l'AppLink è perfettamente compensato, non mi importa dove sta il device, il link funziona. C'è un problema, GNSS, la dipendenza su GPS è un po' problematica, nel senso, se sei in light indoor, in macchina, in aereo, un carro armato, whatever, c'è una buona probabilità che ricevi il segnale della cella dal satellite, ma il GPS non acquisisce. Quindi, un pochino, ci sono dei corner case anche qui da risolvere. In termini di implementazioni pratiche, in realtà, Release 17 è già live in prodotti commerciali che stanno uscendo adesso, stiamo, questo, qui vi dice magari in cosa ho partecipato anche io, in questo, nel senso che nell'aggosto del 2020 abbiamo fatto i primi trial della tecnologia su satellite geostazionari, usando narrowband IoT, tecnologia originariamente per Internet of Things, l'abbiamo convertita in modo da poterla mettere in uno smartphone. E quindi, adesso, se probabilmente avete visto l'annuncio già pubblico di Google Pixel 9, che include satellite messaging usando narrowband IoT. È una tecnologia che abbiamo praticamente standardizzato, testato negli ultimi 3-4 anni. E l'altro che avrete probabilmente se seguite un po', se cercate lo troverete, motorola satellite link, in realtà ne ho anche uno dietro, se lo potete vedere. Ok, la domanda ovvia è come sono fatti questi satelliti che supportano questi tipi di servizi, ne vediamo alcuni. Geostazionari, uno degli esempi Masat 4 XL, Alphasat, l'antenna, giusto per dare un'idea, perché una delle domande è ma come fa un satellite in orbita geostazionale a 36.000 km a ricevere il segnale di uno smartphone. Così. Anche qui, with sufficient trust. Il riflettore di antenna dipende dal diciamo dal modello del satellite ma dai 9 ai 12 metri. Per questi qui sono satelliti con beamforming on board, infatti vedete in basso a destra il feed array ha 150 elementi che formano i beam che si riflettono sull'antenna e satellite quello là in alto a destra è un concept però avete l'idea. Architetture simili ma ancora più esagerate uno famoso è Terra Star One 18 metri di riflettore perché 9-12 non erano abbastanza. Questo qua era stato già disegnato per smartphone negli anni 2000 ai tempi dei UMTS satellite lo vedete lì e nell'immagine non si vede tanto ma quella cosa dorata che c'è sotto è il riflettore impacchettato quello lì è il satellite potete immaginare anche la scala con gli esseri umani il riflettore impacchettato per il lancio simile architettura ligato Sky Terra One questo qua 22 metri di reflector e la cosa interessante è che sia Terra Star che è ligato Sky Terra One usano un'architettura che si chiama ground-based beamforming invece di mettere l'array sul satellite lo mettono a terra hanno un array di antenne di gateway che sparano i beam sul riflettore il riflettore lo converge sugli amplificatori di bordo che poi lo risparano per i beam delle celle utenti insomma beh sì ma in ogni caso il segnale deve andare comunque il satellite funziona da riflettore fondamentale da amplificatore da riflettore però ha il vantaggio che con un satellite di questi copri un terzo del pianeta quindi con tre hai copertura globale e i progetti un po' più esotici EST Space Mobile questa start-up americana che ultimamente sta facendo faville anche nel stock market questo è il loro primo prototipo Blue Walker 3 64 metri quadri di array tecnologia inventata la loro praticamente l'array vola impacchettato in un cubo e si apre come un origami e le celle che vedete lì questo array opera sugli 800 megahertz quindi bande UHF e sono dei cluster di elementi che insieme formano un array appunto il loro piano in realtà è di un array di 650 metri quadri e poi ovviamente Elon non poteva mancare Starlink Direct to Cell questo è il primo rack di satelliti Direct to Cell che sono stati lanciati l'anno scorso ne hanno già 150 ho perso il conto e questi invece usano un array di 5 metri di diametro quadrato che si apre Simplex e li lanciano impacchettati così potete vedere i cosi rossi sono i vettori di manovra e vabbè c'è un po' di fuffa intorno il satellite una volta aperto sembra una penna insomma un'altra è stata più piccola Link che ha deciso di puntare non le dimensioni ma la densità hanno sviluppato questi satelliti qua Tower che sono decisamente più piccoli bene domani progetti open su cosa si può fare allora sull'ambito 4G 5G c'è un sacco di sviluppo open source da un po' di tempo anche da prima o UMTS GSM ci sono un po' di progetti open source non sono tutti questi però questi sono i principali e soprattutto sulla parte di radio network consiglio di dare un'occhiata Osmocom si concentra più su GSM UMTS SRSLT hanno sia 4G che 5G è uno stub di Narrowband IoT Open Air Interface è il più grosso a 4G 5G piuttosto avanzata sono anche abbastanza maturi e se venite di là potete vedere anche che si possono far partire potete ostare una cella LTE con una radio abbastanza consumer l'abbiamo messo su con una Pluto con una model firmware il problema è che da tutti questi stack il supporto per satellite access è ancora embrionale soprattutto la roba di Release 17 in Open Air Interface ce n'è una prima implementazione consiglio di dare un'occhiata mancano dei pezzi quindi per chi fosse interessato a fare ricerca e sviluppo in quest'area nell'open source qui c'è un sacco di roba figa da fare MBA IoT che ironicamente è il primo a essere live non esistono implementazioni complete in open source ci sono quasi tutti i pezzi ma manca ancora qualcosa quindi sarebbe bello chiuderla e poi insomma ci sono ancora dei problemi per renderlo accessibile a SDR più consumer tipo la Pluto necessita di timestamping e ancora il firmware è ancora in beta sarebbe bello finirlo e poi ci sono tutta una serie di idee ancora da provare quindi se volete di là stiamo provando a mettere su un mini lab abbiamo la parte di sinistra c'è l'LTE con Pluto SDR adesso stiamo lavorando a mettere su G-Predict per simulare Doppler del satellite e compensation con NuRadio grazie un dubbio una curiosità con tutti quegli satelliti che già ci sono su adesso noi mandiamo su un'altra sfilza quanto tempo durano cioè vale la pena buttarli su anche perché questi qua si beccano un detrito grosso come una monatina sono fuori gioco e magari si spaccano e mi fanno 50 100 miliardi di detriti che comunque continuano a girare intorno è sostenibile avere un sistema satellitare diciamo di poco vengono fatti fuori grazie alla domanda è sostenibile nessuno lo sa con certezza c'è il rischio della cosiddetta Kessler syndrome cioè l'idea che una collisione possa generare una serie di collisioni a catene quindi inquinare almeno alcune orbite le probabilità per adesso sono ancora basse ma considerato che per esempio alcune le costellazioni tipo Starlink stanno puntando ad avere 15.000 satelliti adesso ce ne sono più o meno un migliaio il rischio cioè ci sono pareri discordanti insomma mettiamola così ci sono anche la vita media dei satelliti in orbita bassa satelliti in orbita diciamo oltre i 1000 km la vita di un satellite diventa potenzialmente infinita se ha sufficiente di carburante sotto i 1000 km quindi inizia ad incorrere in drag atmosferico pian piano l'orbita decade ovviamente l'orbita è molto basse tipo 500 km e più in basso sono molto instabili per esempio alcuni satelliti SpaceX hanno una vita proiettata di tre anni più o meno e dopodiché rientrano nell'atmosfera alcuni della prima generazione di Starlink stanno già rientrando nell'atmosfera e alcuni stanno alcuni tra cui SpaceX e i cinesi stanno addirittura pensando di andare più in giù 330 km o addirittura 250 km in Viliio e in quel caso lì la vita di satelliti tende a zero cioè arrivi a un anno o pochi mesi e la densità di constellazione diventa quasi tende a infinito insomma per avere copertura completa quindi è ancora un attimino da capire il trade off sarà trovare delle architetture che sono in grado di fornire coverage capacity però in modo sostenibile c'è anche tutto un discorso relativo alle bande di frequenza il framework regolatorio che è un pochino più spinoso ma sì il tema di sustainability è very much al centro della discussione intanto grazie complimenti per la presentazione il mondo delle telecomunicazioni è estremamente normato come può un progetto che comunque alle sue spalle non ha non ha solo grandi società che hanno interessi di business promuoversi e tutelarsi anche rispetto appunto a quelli che possono essere dei vincoli normativi mi viene da dire banalmente l'intercetto dalle telecomunicazioni a fini di polizia di salvaguardia dunque sul discorso delle normative regolatori framework c'è veramente un sacco di discussione una delle delle cose per esempio ci sono una serie di per esempio sullo spettro radio ci sono una serie di bande le bande disegnate per mobile satellite service mss che sono bande disegnate per l'uso di servizi mobile satellitari che già esistevano e che quindi possono essere riconvertite c'è discussione in corso sull'utilizzo delle bande terrestri mobile from space in quella che l'FCC negli Stati Uniti ha identificato come prima si chiama rule and order per supplementary coverage from space scs cioè praticamente ha identificato una serie di bande terrestri che sotto certe circostanze possono essere riutilizzate sotto certe condizioni possono essere riutilizzate per mobile satellite service c'è in discussione a livello di ITU a questo punto è regolatori globali quindi da quel punto di vista è ancora non chiarissimo dove andrà la direzione ma ci sta chiarendo i sistemi tipo Starlink direct to sell al momento stanno operando o sotto le regole dell'FCC con accordi con gli operatori mobile oppure sotto la regolamentazione 4.4 dell'ITU che è non interference su quali orbite siano consentite se siano sostenibili quale sia la policy per la gestione dei detriti orbitali c'è un po' di discussione su chi sia compliant e chi non lo sia non faccio troppi commenti perché però sì ci sono delle questioni aperte per esempio anche il danno ottico alla radioastronomia bisogna bisogna dire che se riesco a riprendere sia per ST Space Mobile purtroppo non ho messo la foto che sarebbe stata un'ottima idea ma se la cercate la trovate se la foto dei radio scusa della foto dei telescopi e del passaggio di ST sembra una spada laser nel cielo letteralmente e Starlink direct to sell anche sono molto visibili già la critica c'era sui primi Starlink KU perché riflettono tantissimo infatti vedete queste foto dei fotografi astronomici con le striscette bianche questi sono ancora più luminosi e quindi i progetti sicuramente sulla parte di telecom i progetti open source giocano un ruolo importante perché comunque democratizzano la tecnologia e va studiata va conosciuta anche l'aspetto security delle applicazioni in space cioè ci stiamo studiando sia per deployment che per i standard ma non tutti i problemi sono noti lawful intercept i governi sono preoccupati perché chiaramente dipende anche da quanto compliant siano le entiti che operano queste costellazioni non è che voglio necessariamente impuntarmi su Elon ma il caso Ucraina è interessante e se adesso questa tecnologia è disponibile in uno smartphone bisogna vedere chi è compliant chi no insomma silver non è o o o o o